Non ce l'ha fatta Marcello Capacci, il farmacista cortonese investito a Tavernelle di Cortona lo scorso ottobre. Il 59enne è morto a pochi mesi di distanza da quel drammatico incidente, si trovava in un centro di riabilitazione specializzato a Siena. Le sue condizioni, a seguito dell'incidente e della lunga permanenza in ospedale, si sarebbero infatti ulteriormente aggravate sino al tragico epilogo. Il drammatico incidente risale allo scorso 22 ottobre, quando lungo la strada regionale 71 all'altezza di Tavernelle, Marcello Capacci era stato travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali da un pick-up con a bordo un 48enne di Cortona, un violento impatto che aveva provocato traumi gravissimi. Marcello Capacci era stato inizialmente trasferito all'ospedale delle Scotte di Siena con il Pegaso, poi in vari ospedali. La Procura della Repubblica di Arezzo ha disposto l'autopsia e il fascicolo già aperto sull'investimento passa ora da lesioni colpose gravissime a omicidio colposo.